Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Maurizio Costanzo è tra i presentatori televisivi più amati dai telespettatori. Nel corso della sua carriera, però, si è fatto apprezzare anche nel ruolo di conduttore radiofonico. Nel giugno del 2021, Maurizio Costanzo ha accettato un nuovo impiego che al momento dell'accordo lo ha riempito d'orgoglio. Il noto conduttore, infatti, annunciò di aver trovato un'intesa con la Roma per ricoprire il ruolo di responsabile della comunicazione del club giallorosso. Qualche mese fa, precisamente a febbraio, Maurizio Costanzo ha ufficializzato il suo addio dal club capitolino. Il suo incarico è durato pochi mesi e il conduttore, che essendo un grande tifoso giallorosso tra l'altro, per lui si è trattato di un addio molto triste. Nonostante le sue idee e i suoi progetti, infatti, purtroppo non c'è stato modo di metterne in pratica alcuno, motivo per cui è stato costretto a lasciare. Queste, nel dettaglio, le sue dichiarazioni, lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono su tutte le furie e sono tristissimo, ma purtroppo non c'è stata nulla da fare.